Sì, sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Tornaggio a casa, distanza di anni, terza serie, derby sentitissimo tra Rimini e Vispesaro. Ospiti che giungono a neri in formato ridotto, dato alle tante assenze, tra i pesaresi fa il suo esordio Gabbani. Colucci lancia nell'undici iniziale tre classe e 99. Il Rimini perde la grande chance di poter allungare in classifica, facendosi raggiungere nell'extra time quella che una volta veniva definita zona bianco-rossa. Su rigore, decretato ai padori di casa, simpatico siparietto Candido Volpe, che a Corine dopo gara spiegherà alla sua maniera. L'hanno fatto apposta. Invece la Vispesaro, nonostante l'uomo in più, non riesce a vincere la gara e Colucci darà una sana spiegazione. Le occasioni che non vengono perché ti manca quella cattiveria agonistica che è intrinseca nel giocatore, altrimenti da fuori fai un po' più fatica a riuscire a trasferire, calciare per fa gol o calciare tanto per. Delle volte calciamo tanto per, ma si calcia per fa gol, perché quando calci per fa gol, nove volte su dieci fai gol. La gara vede subito protagonista in negativo il centrale Ferrani. La sua entrata scomposta causa la prima munizione del match e la prima occasione del calcio piazzato, essendo in carica Petrucci, pallone alzato da Nava sopra la traversa. Il Rimini risponde sempre da calcio piazzato, Candido alla battuta, chiama la presa a terra Tomei. Alto calcio piazzato che arriva sul versante opposto, questa volta l'incaricato di turno e Gabbani che non inquadra il bersaglio. Al trentocinquesimo la Vispesolo rischia di passare, Gabbani scodella questo pallone per l'inserimento perfetto in area d'avversaria di Tessione che centra un'incredibile traversa a Nava battuto. Al trentottesimo Ferrani si dimentica di essere giocatore d'esperienza all'entrata su Diop e meritevole del secondo giallo. Scatta così il cartellino rosso e per lui auguri di buon Natale in anticipo al popolo bianco-rosso. Squadra riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Rimini al quinto passa, lancia in profondità a cercare Guibre, scatto del numero 11 in maglia bianco-rosso in direzione area di rigore, ma Pastor Franas di lui per il direttore di gara non ci sono dubbi. Calcio di rigore dal dischetto dopo un simpatico siparietto con Volpe si presenta Candido che fredda Tomei per l'1-0 del Rimini. Finalmente festeggiamenti che arrivano anche per il numero 27 in maglia bianco-rossa. La risposta dalla Vispesolo arriva solo al sessantesimo. Balde appena entrato chiama la parata di piede l'attento Nava. All'ottantesimo lo stesso Balde crea scompiglio in area di rigore. Dopo un batte e ribatti al tiro arriva Petrucci, pallone alto. All'ottantaquattresimo Diop in acrobazia mette i brividi alla porta bianco-rossa, pallone fuori. Rimini con l'uomo in meno che sembra tenere la Vispesolo ma la zona Cesarini tanto amica da Cori questa volta svolge ciò che in fisica si chiama direttamente proporzionale a Dix che sta per bravura e fortuna e a Ipsson che in questo caso si chiama Andrea Petrucci. Tiro del sabato e via l'esultanza sotto la propria curva con tanto di passerella sotto la tribuna centrale dei neri fino all'esultanza stile Cristiano Ronaldo sotto la propria curva. Ma al 92esimo la Vispes compie il sorpasso. Marchi anticipa di testa a candido. Diop supera Nava strattonando a giudizio arbitrale. Un attimo prima Brighi che alla disperata tocca il pallone infilandolo nella propria porta. Il repre ci mostra quanto interpretato dal direttore di gara. Rete che viene annullata. Al 93esimo la Vispes prosegue la soppressione offensiva. Bade che si dimostra un cambio azzeccato spedisce gli auguri di Natale via aerea. Mentre al 94esimo Nava si traveste da Superman ipnotizzando il tentativo avverso di Diop con una parata miracolosa. L'ex di turno invece è buono culto per Nella. Al 95esimo questa deliziosa palla che Melli spedisce tra le braccia di Nava. 1-1 in finale e applauso soprattutto ai 3.000 presenti a Neri che hanno dato vita a uno spettacolo oltre misura assieme ai protagonisti in campo.